buongiorno a tutti e benvenuti su all pezzi tv all for you tanto prima o poi viene pure tu andiamo con i commenti sotto natale attende i pacchi regali fasulli vado fiorentina roma grande partita la fiorentina deve uscire da questa situazione quindi venderà cara la pelle però la roma vuole continuare la sua corsa io in questa partita do il vantaggio alla fiorentina udinese cagliari cagliari viene da una coccente delusione all'ultimo secondo quindi vorrà rifarsi però l'udinese ha bisogno di punti quindi leggero vantaggio dell'udinese intergenova l'inter vuole continuare la sua corsa quindi secondo me per il genoa sarà molto difficile la vedo dura per allenatore del genoa credo che sia la sua ultima partita sulla panchina del genoa vantaggio inter torino spalle stesso discorso la spalle quest'anno non gliene va bene una quindi vorrà fare risultati però a torino è dura vantaggio del torino atalanta milan grande partita l'atalanta vuole continuare la a sognare la sua corsa il milan viene da qualche risultato positivo e vorrà continuare la sua corsa a sua volta quindi non sarà facile per l'atalanta venirne a capo io in questa partita dico la verità vedo un leggero vantaggio del milan lecce bologna il lecce vuole vincere la sua prima partita in casa però il bologna è un osso duro fuori casa gioca bene do il vantaggio a lecce però col punto interrogativo parma brescia il parma fuori casa gioca grandi partite in casa invece ha qualche difficoltà e credo che il brescia possa approfittare di questo do il vantaggio al brescia al suolo napoli è giunta l'ora di svoltare ragazzi quindi il napoli ha un solo risultato per uscire dal tunnel quindi deve andare a sassuola e fare la partita provarci per lo meno il sassuolo comunque se la gioca sempre quindi sarà sicuramente una bella partita do il vantaggio al napoli con questo concluso prima di salutarvi voglio farvi il mio augurio sia di natale che di un buon vendiventi hombre felice navidad e buon anno nuovo a todos nosotros estamos aquí per una magnana mejor yes merry christmas and happy new year all my friends a todo il mondo a tutto il mondo in the world con questo vi saluto e vi rimando alla prossima e come sempre all in pizze tv all for you tanto prima o poi vieni pure tu e non devi che scappi arrivederci